Pizzavillage Per chi un domani Voglia diventare pizzaiò Qual è il percorso che si deve fare? Non c'è nulla di scritto Il messiere viene Tanto di sacrificio Quindi se ci metti in cuore la passione Non ti pesa Ogni giorno è sempre una scuola Non si arriverà mai Hai mai avuto qualche richiesta Di qualche pizza particolare Oppure fai a fantasia Ovviamente guardiamo i tempi Quelli che sono oggi Quindi oltre ad avere sempre le classiche Guardiamo anche al futuro Mettere delle pizze nuove in una tv Benissimo Allora adesso raccontaci un attimino Qual è la tua pizza preferita? Per me è la classica e la margherita Quindi la più semplice in assoluto Quella che vogliono Voglio mettere però per me rimane sempre quella lì La più semplice ma delle più buone Va bene Allora noi ti ringraziamo Voglio salutare gli amici di Radio Notchia E un bacio a tutti quanti Alla prossima Allora Allora noi ti ringraziamo